sembra che mi sono fatto una gamma da poco però vabbè salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video siamo di nuovo su Prototype 2 e terzo episodio con mio fratello visto che è una serie sua quindi sarà nel mio canal allora torniamo a noi spero che il volume si senta perchè non so se l'ho sentato bene vai avanti con la storia dove eravamo rimasto infatti non ho fatto come è stato aspetta cos'è che non fa scusate piccolo inconveniente è meglio che stoppare il video metto un attimo pausa da fail estreme ok siamo tornati ho settato il tutto e ho capito perchè non mi faceva speriamo no 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 ora fa vai avanti con il gioco vai e con sabelli che vivi in giro e con sabelli che vivi in giro non so se vede cosa faceva prima di diventare un aeree vediamo che mi sono fatto carcellare molti natuaggi mi passa allora scusate per la doppia voce perchè è il microfono che cazzo troppe troppe voci ok raggiungi il terminale della black net allora vai al terminale della black net buongiorno si ma non penso non penso che lì ti fanno passare con non lo so però prova andarci ora vedo non mi ricordo se potevi fare anche in questo modo no 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 non andare non ci andare non ci andare no non ci andare vai direttamente lì vedi che culo che culo si mangiandola ok ora fare accesso non mi ricordo che si doveva fare mi pare che dovevamo trovare un dottore esatto ora siamo cosa senti mamma mamma sei in tv dissi mamma scatola no perchè si st office attaccare com mianne infatti con il pugnale vabbè remembered No principalmente il scherzo è interessante sbagliato alberto e di adresa scusatemi rompiamo le cose altrui allora eccolo la speriamo che sappia qualcosa mi hai venuto un po' fame posso mangiare? le faceva amare la schiena facciamo un massaggio non c'è tempo per le chiacchiere doveva fare rapporto 24 ore fatta non ha avuto il problema stavo dormendo il 24 ore fatta era ieri e quindi andavamo al cena non c'è che ne pensi non cazzo allora ah sì queste sono delle mie secondarie se possiamo farle vabbè la devi fare per forza non c'è sta scaricando le ruffe vieni con me ma è la struttura gente dai ci porta anche lui dai lascialo fuori è il mio quarta fortuna si lo lascialo fuori pureto dai ma che ti ha fatto di male mi sta sulle palle mi sta sulle palle eh bravo hai visto che c'è la macchina la cauzione ce l'avete no si sbaglia ma le due quattro ma le due capito succedono sempre queste cose hai fatto anche paura bene allora non mi ricordo ah sì dovevi devi accedere al al terminale ok in queste strutture la blackwatch e la gente che usano sistemi di sicurezza biometrici non lo sapevo il sangue non sarà facile entrare tranquillo padre sarà più facile di quanto pensa cioè cambiate i vestiti faccio un po' di joker e usiamo ora ora dobbiamo prendere una una tuta militare ovviamente scusatevi stavo bene perché con questo travestimento non si può non si può fare nulla mi presti le chiavi che bello per uscire una persona mi dice mi presti le chiavi va bene il tutto stava cascando scusi stava cascando non lo faccio a scattare non lo faccio a scattare non lo faccio a scattare no vanno dai scherzo facciamo quel bel accesso accordato scienziato a campo dottor genovese guarda e credi ha trovato un figlio ho trovato un figlio ma è sformazzo se voglio leggere il cervello a proposito di rossi ma e dove devo andare devo andare non correre ma no e a cui mi spero è un'altra cosa e potere della caccia no veramente ah si quindi c'è gli obiettivi quelli che sono controllati gli obiettivi rossi non si possono catturare perché vedi sono controllati invece quelli bianchi si possono consumare ho consumato ora lui e ora posso consumare si che ovviamente bisogna stare attenti a non far scattare l'allerta perché una volta che queste missioni sono state avviate entra in laboratorio senza far scattare l'allerta oh mi scusi sono ciampato abbiamo abbiamo fallito diciamo abbiamo fallito la missione ovviamente qui dobbiamo fare la stessa cosa per prendere prendere il dna del no che parla l'ultima volta si lo so stavo per prendere questo l'ultima volta però stavo prendendo questo e sono stato allerta ah si controlla se non è controllato è controllato da lui ah 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 allora pr BMW Il pulsante rosso, cazzo, lo schermo è tutto, merda questa cosa è rotto Ok, c'è scelta il tasto alto e per l'altro Alt, non vedo nessun altro qui, vedo il tasto con una riga mondulata e l'altro con un triangolo Ma che cazzo di tastiera è questa? Calmati, dovrebbe esserci un pulsante con un quadrato blu Ok, ora sì che ci siamo, richiamo il database del personale Bene, ho la posizione Ricorda di scollegati Sì, sì Il terminale 4 è connesso in assenza di personale Tornare in postazione e inizia l'intera la procedura di disconnessione Grazie, ancora audio-computer Ok Ok, siamo scelte la struttura Ovviamente E eccomi Dovevamo sconnetterci, però lui non l'ha fatto Per dire, Tung Life ma che cazzo se ne frega Cioè No, bene Vai, è uscita la struttura? Eh, mi fa dire che si trova il tuo market Da, per favore, dai Non mi fai un'usola ascella, che schifo Allora Dai Che schifo che ho fatto un'usola ascella Avanti Ho fatto un'usola ascella Somma, come fatti a scoprire? Eh Va bene Allora Pane Ma puraggi, perché? Mi fissi pieno Puraggi Va bene Che Eh, va Eh, lo trovo a infiare nell'occhio Eh Abbiamo avuto una mutazione di attacco Infatti, quando facciamo queste missioni Possiamo avere dei potenziamenti bonus Per Eh Per modificare Heller Allora Possiamo mettere morte dall'alto No, un attimo Morte dall'alto È più bello Vabbè dall'alto Eh Ora andiamo da Dalla R Questa si è accesa una lucina gialla Va Qui si sono collegate Ma Vai avanti Vai avanti Non vuoi bere Mentre Eh Signori Tutto ok? Siamo al di testa Usa momentà Che ne ho un pacchetto In pesca No Mi sembrava più Questo Questo sembra al mare Proprio Con le grandi sbilenche Che No Questo sembra Che fa confus Sì Infatti Vabbè Allora Daniela R Aspettate un attimo Allora ragazzi Vi dico Che Da alcune parti Vi Non mi prega Incontrate queste cose qua Vedete C'è tipo Per la memoria Per il DNA E dei potenziamenti Però è che il blocco di memoria Serve per scoprire un po' di più Che cosa Cosa Sta succedendo Cosa sta succedendo Nella Nella Blackwatch Scusate un po' Invece quelli Con il muscolo Sono potenziamenti Non mi ricordo Di questi No Non penso Non penso Che siano Di questi O anche Delle armi O delle armi Cioè Per l'utilizzo Delle armi Un aumento Di danno Ovviamente Ovviamente Le missioni secondarie Le faremo In Più Più in là Ah forse è dal fucile No basta No 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 Non lo prego Va bene Va bene Allora prendiamolo Ho avuto un culo Non l'hanno scoperto Non l'hanno scoperto Però vai avanti Perché se vediamo Ma strano Perché lo fa È il mio È il mio Sì Il mio filo È le È osservato Perché Va bene È il mio potenzio Facciamoci inseguire Caporale Tino Antonelli Un è il capino Caldo Tino Un è il capino Per cazzo di nome Diciamo che la tua carriera Potrebbe E' il capino Non me ne frega Un cazzo Mi sono Ancomando Sparare alla gente Non ai mutanti Un muoio Sentire Wow Vi piace sparare alla gente Un'altra missione secondare Queste sono Altre missione secondare Che non faremo In questo episodio Lo faremo In un prossimo Quando Vorremo Potenziarsi Un'ultima di collo Scappa Sì Quando Aveva venuto In un'ultima di collo Aveva fatto Tocca Quando Arrivo Ok È tornato Il colore So che è scattato Adesso So che è scattato Adesso Una persona Aiuto Aiuto Cambia Ok Ora Stiamo perdendo Più tempo Che Che fare la missione Dobbiamo fare Due missioni Episodio Dai Come due Missioni Esagerato Eh La prossima missione Dai Abbiamo fatto La prima Abbiamo fatto Eccola Eccola E' ancora Lungo il gioco Cioè Siamo al terzo episodio Cioè Tanto Il terminale Blacknet Ha rilevato La posizione Del colonnello Rux Il comandante Blackwatch A New York City Zero 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 Bene Sono Bene Conoscenze Conoscenze Riuscire a fare attenzione Noi Va bisogno Insomma La Di Servirà Un travestimento Per riuscire a entrare Pezza Fa' La Di scoprire Per dire Perdi la testa per me? Sì Ci sono persone che perdono la testa Buongiorno Ok Questo è un po' meno più complicato Questi ti rilevano No, è solo per farti vedere Ora, ora, ora Ok, ora vorrei al briefing Infatti, ho fatto un po' di esercizi Mi sono sviluppato Alla faccia Mi sarebbe già venuto il sospetto Che tu sei te No, ok Una nuova missione La Gentec ha in programma dei test ad alto rischio Hanno modificato i loro protocolli su infetti contro civili Aspettatevi molte vittime Queste sono informazioni riservate Fate subito rapporto al dottor Schaffer Vi darà le coordinate del sito Congenre Forza, forza, andiamo no e' bezzo un po' di cazzo no no waffles chaffello e waffles mi sembrava i soldi ma vedi c'è a ognuno c'è tipo guarda c'è il premio per il balzo ah vado a saltare no no che ho fatto li devi così lo sa è per sbaglio quelli vedi prima che bello ti sembra un ombrivo madonna davvero che schifo vedi c'è la gente perde la testa per me non sapevano nulla neanche loro uno si ah uno si gli altri no io farei esperimenti su un virus che ha creato la Gentex Gentex prima si chiamava Gentex ora Gentex shopper no ok scusi la mosca solo è più su un parabrezza va disposti ok ok eccola hai visto? ma guarda cance quei edifici sono tutti clinici eh si perchè è in lontananza è laggiù in quei palazzi la dev'essere ecco ecco attacca l'apc usando i lanciarazzi ce l'ha l'arancio ragazzi eccolo via ah ho sbagliato dai come si spara a quadrato vai 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 continua continua io ti uccido mi dispiace bomba ti prego non uccidemi e uccidiamo va bene la signorina Callaghan pesante ok ma dai facci sexy pregate no dai lasciali qua non posso morire ok io penso che per questo episodio si può dire tutto perché mi sta diciamo sono anche abbastanza minuti che ora si sta registrando sembra poco eh no ti sembra poco a te ma saranno 28 minuti di video ora quindi non vorrei fare più di 28 minuti di video ah già ci sono anche queste scatole mire che sono ottime da apprendere perché mi danno mi danno punti esperienza se tante volte vi capisco adeggiare a prototype eh si vabbè se ti fai vedere eh vabbè vabbè aspetta 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 no lanciarazzi vabbè 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 mentre il mio fratello si diverte a spaccare un po' di testa un po' di testa a giro io vi dico che ci si può vedere nel prossimo episodio sempre qui faremo un episodio vi ripeto un episodio a settimana ci vediamo nel prossimo video mettete un pollicione in su commentate e condividete e andate anche nella pagina di facebook a cercare youtube channel Enrico Durelli e mettete un bel mi piace si saranno in descrizione tutti no no non lo volevo mettere in tempo volevo fare così però volevo fare così ok va bene vabbè vabbè al prossimo video ciao